Non mi aspettavo un risultato del genere, allora appena l'ho vista sono scoppiata a urlare perché ero felicissima ovviamente, però ancora più emozionante è stato quando ho visto quello dell'Unica Millus perché comunque era il primo test dell'anno e non sapevi bene come come poteva andare e quindi quando ho visto quarta in classe sono scoppiata a piangere, ho detto prof devo andare in bagno, devo andare in bagno, ho chiamato mia mamma disperata, piangevo. Ci sono ovviamente dei docenti che ti rimangono più impressi, soprattutto anche dal punto di vista psicologico e ti aiutano molto perché comunque sono sempre a disposizione, tu gli scrivi qualcosa e cercano sempre di aiutarti. Passione perché abbiamo tutti la passione che condividiamo, eravamo tante persone che condividevamo lo stesso sogno, la stessa passione ed è una cosa molto bella essere tutti quanti insieme per arrivare poi a raggiungere questo sogno che abbiamo.